Mi piace anche a tutti i cagliaritani Ma non solo a loro Mi piace anche a tutti gli intellettuali di tutto il mondo Tutti gli intellettuali di tutto il mondo si telefonano e si dicono Ti piace Don Waits? Si, mi piace Don Waits Ma Don Waits, se non traduci l'italiano scopri che diventa qualche altra cosa and down the street making all the noise Don't ignore a donde vivo la vita o sia la giornata o quello che da Don Waits è il caifano che c'è in tutti noi tutti noi abbiamo un caifano dentro basta farlo uscire ed è anche Don Waits che cosa? Con una voce così forte uno ti sta a sentire questo se vai dal ferramenta a chiedere 10 piti parker con ferramenta pieno se vai con un voce flebile tipo zampaglione di nomaggino scusi non dare 10 piti parker però non dare l'avidenza ma cosa ha detto forse non sono abbastanza ma l'avidenza per me è importanza ma smontata nella stanza non dare l'avidenza nella stanza non dare l'avidenza non dare l'avidenza se vai dal ferramenta se vai dal ferramenta non dare l'avidenza non dare l'avidenza dammi 10 piti parker una volta faccio un po' con testa che le bevo come no nooo ma pensa se esci dal ferramenta garlo e felice e incontri l'uomo che vende i palloncini l'uomo che vende i palloncini ti dice ma perché non dai una boccata di gassello no 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 dai una boccata di gassello dai una boccata di gassello e tu dai una boccata di gassello uuuuue non me la posso per me non me la posso per me